Andiamo, siamo in 500 euro 500 euro hai detto ai ragazzi di scrivere ai ragazzi va bene andiamo vai 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 va bene vai, siamo in tanti, siamo in tanti siamo in tanti proseguiamo ah si potrei mettere la doppia cam cioè mettiamo la doppia cam dite però non si vede più tutta la figata ragazzi, ho speso migliaia di euro per far vedere le figate brutta storia prego spiegati a prendere un'arma è morto il primo è qua dove cazzo l'hai trovato questo bastone dammi questo bastone dove l'ha preso questo bastone leggendario guarda che c'è un altro c'è un altro c'è un altro dietro cazzuola la merda cazzo come cazzo gli ammazzo che mi sparano in due devo recuperare salute filo di pull filo di pull vai guardiamo nel poletto si sento si sento cosa ridi è terrorizzato è terrorizzato non l'ho mai visto terrorizzato ragazzi no 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 quello lì è lì che mi sto aspettando aspetta aspetta sei morto lo sai anche tu che sei morto brutto culo dov'è che scappi tu dentro così ok aspetta che c'è un altro ancora più bravo di fortnite c'è un altro ancora c'è un altro ancora è di là guarda se lo vedi ha una sagoma rossa oddio stiamo recuperando no ho preso la luna che mi ridà la shield amo no vabbè ma stai scherzando andiamo a farci il tipo ma puoi parlare puoi parlare cioè c'è un tipo però è attenzione si è vero è qua il tipo sta forgiando quel cazzo che forgi brutto buco di culo aspetta aspetta che mi ammazzano grazie per avermi forgiato le cose andiamo questo però non mi piace raga abbiamo fatto una partenza assurda demoliti prendo questa ok sono tranquillo ora puoi parlare quanto vuoi demoliti raga demoliti la runa no non uso niente aspetto di arrivare a 90 per prendermi l'abilità di movimento carica il bastone ok puoi parlare amo puoi parlare amo 5 kg allo start potremmo fare il record eh no non è vero il record è 17 con vittoria reale che partita raga che start cosa va è questo il cooldown dell'abilità di base è ridotto del 25 per cento nice vado no ma adesso non voglio andare di fretta voglio recuperarmi quindi si scannano continua a recuperare passivamente l'armatura c'è gente qua andiamo a farmi un'altra kill aspetta che c'è gente aspetta che c'è gente metti le cuffie dove cazzo vai non parlare sei morto nice ok c'è un altro dietro ora muore ora muore ora muore ora muore ora muore ora muore se curati lia mi raccomando stupido coglione andiamo ok nice penso che prendo il fucilozzo cattivo ovviamente questa che è l'abilità uguale ma più forte andiamo demolito si demoliti tutti e due torniamo a forgiare lasciamo che l'abilità passiva amo recuperi l'armatura e tu dovresti dire hai ragione si e per forza per forza cosa vuol dire l'abilità passiva che recupera l'armatura che cazzo ne sono fantastico andiamo l'abilità del movimento io le armi non le forgio uh abilità leggendaria tanta roba demoliti qua devo ringraziare leo leo per il bastone me l'ha consigliato lui raga no forgio ma vado a spingere vado a spingere ancora raga voglio andare a ammazzare gente prima che la gente sicuro faccia cose fighe l'abilità passiva dell'armatura è OP nice ok il salto leggendario andiamo buone queste 7 kg allo start hai detto ai ragazzi di iscriversi al canale twitch puoi dire ai ragazzi di iscriversi al canale twitch ragazzi iscrivetevi al canale twitch quanti scritti siamo amo soltanto e cioè non lo so se me lo dite non lo so se me lo dite allora volete volete la novità ragazzi la pavita che vuoi iniziare a streamare su twitch ve lo dico ve lo dico ci siamo per preparare la postazione anche a lei ragazzi eh andiamo a iniziare a strommare su twitch lo stronzare andiamo ha dato che lo vuole fare dato che si è stufata di lavorare in lavanderia ragazzi inizio a streamare su twitch ti busto a merda facciamo il doppio stipendio andiamo via subito leo easy proprio proseguiamo la busto io la busto la busto a merda al prossimo cadavere e si spara e mi raccomando ciao 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 mi e minello via via così proprio demoliti raga la cos'è cos'è che mi dà questa abilità che non ho capito ok non succederà mai cioè posso crepare quattro volte invece che tre andiamo otto kill per questo io mi permetto di scrivere pro player nel tag della live ragazzi perché secondo me qua sono veramente fuoite andiamo si ragazze non può continuare a fare la lavandaia raga dai gli ho detto streama su twitch ti busto perché si è chiuso mi sono cagato addosso ok siamo full andiamo ciao alessio vai vai ok buono c'è gente usciamo aspetta a sparargli stilata la kill squagliato anche quello mi sparano attenzione che mi sparano devo fare questo devo fare questo non so non può tornare in vita questo corre troppo forte uno aspetta che manca quello oh muori ma che cazzo fai non è finito non è finito non è finito un momento non è finita non è finita non è finita non è finita devo recuperare non ho non ho shield devo ferma siamo in 11 chi siamo in 21 adesso me li squaglio tutti e due ma devi dirmi un secondo aspetta un attimo no non è finito hot 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 ho ridi le cuffie a lo se già è già sulle cuffie è.. questo è qualcuno che si è abbonato al canale ah ok vado 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 adesso morto Non stirarmi la kill Ok Ne manca uno Lo pusho Cattivissimo Ok Morto Forgiamo Forgiamo E non devo costruire Che è più bravo questo gioco Mi sparano ancora Forgio solo queste Ok 13 kill Possiamo fare il record Possiamo veramente fare il record Vado subito a curarmi Ho sperato il record di Fortnite Record qua sono 17 kill con vittoria Si può vincere Raga si può vincere Qua sono veramente Per questo scrivo pro player Qua sono veramente forte Andiamo Cioè non lo scrivo per ironia Cerchiamo la gente E' qua E' qua imboscato Aspetta aspetta E' qua Morto Ok nice 14 kill 3 kill al record 3 kill al record Cerca di sentire Se senti passi E' abbastanza facile sentire i passi qua E guarda se vedi gente con Il bordo Tu guarda sempre verso l'alto Uno là davanti Lo pusciamo Lo pusciamo Lo pusciamo Porta anche lui Vai giù Vai giù Vai giù Vai giù Vai giù Sì Pusciolo 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 Aspetta aspetta 15 kill E' un mostriciattolo Qualcosa del genere Puoi comprare quelli che ti piacciono E io c'ho il goletto No non è schifoso Il gatto quel che è da soli Che è epico Ah no 2 kill al record Siamo in 9 Grande dice lì Penso che vado con lì No no Mi piaceva di più questa Carichiamo E pusciamo Guarda se vedi quelli con il bordo rosso 2 kill al record raga 2 kill al record Dove dove Sì guardalo là Adesso via con il bastone Pusciolo che un coglione Pusciolo che un coglione Prima che mi sentono gli altri Pensavo fosse qua Dove cazzo vai? Sì sì ma lo vado a prendere questo Ma tu non hai capito E' qua dentro sicuro Scappa continua a scappare Continua a scappare E' qua 16 kill mi manca l'ultimo per il record Gente ancora che mi puscia Carica il bastone Carica il bastone Ma che si shielda? Grande errore usare la minicun Cosa mi ha squagliato? No 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 Metti fuori quella faccia di merda Sei morto sei morto Sei morto No non penso proprio Dove cazzo sei? E' qua? 17 kill Ne manca una per Ho una kill in più E' record Sono tantissimi 17 kill Siamo in 5 Posso farcela Gente qua sopra Gente qua sopra No è il coso? Devo forgiare Devo forgiare assolutamente Guarda quello 18 kill Questo è record Vai a forgiare Vai a forgiare Vai a forgiare Sei un mostro Grande record No Non so se ho tempo di forgiare Ci provo Caricalo caricalo Dai non ammazzatevi Dai in vita Non afforzare No non posso Non posso Non posso Ciao il cecchino Ciao il cecchino Credo che non mi abbia fatto lui E fu record Terzo Terzo con 18 kill Bravo Terzo su quanti? Cento Un moño Tu non mi abbia forgotten lo spiegare